Ha fatto già rientro alla base il peschereccio di Termoli che stava pescando a largo di Cupra Marittima e che ieri sera ha avuto un incidente, le cui cause sono tuttora misteriose. Giancarlo Trapanese. Paura, momenti di tensione a bordo prontamente gestiti dall'equipaggio e una giornata di lavoro persa. Questo in fondo il bilancio finale di uno strano incidente che ha costretto il motopesca Marpesca di Termoli a riparare nel porto di San Benedetto. Secondo una prima ricostruzione avrebbero preso fuoco le reti da poco ritirate a largo di Cupra Marittima in quanto intrise di una sostanza gelatinosa che sarebbe stata pescata e che una volta essiccata avrebbe iniziato a fare un denso fumo. Si è temuto che fosse del fosforo proveniente da ordigni inabissati. Attualmente la Capitaneria di Porto sta conducendo accertamenti ed indagini ma questa ipotesi sembra essere ora più remota di quanto non lo fosse in un primo tempo. L'incidente è avvenuto a 5 miglia dalla costa e la prontezza dell'equipaggio ha evitato guai peggiori anche se poi il motopesca ha fatto rientro per sicurezza scortato da un'altra imbarcazione, una motovedetta della Capitaneria.